Adesso ci sta a chiedere, io ho appena fatto il bagno in piscina, a grido il suo abbero, a grido il suo pubblico, buonasera a tutti, accomodatemi ragazzi, io mi chiamo Celestino, sono colui che ha inventato questo format che si chiama Serata dei Siglo Lenturo, sono 15 anni e un mese praticamente, e io vado in giro per l'Emilia Romagna in Italia a Fardani, e questa sera appunto siamo qua, siamo venuti qualche volta a quest'inverno, qui ci siamo divertiti veramente tantissimo, noi siamo qua numerosi per mangiare, è ok, ma come dico sempre io, il motivo principale per cui siamo qua è quello di risvegliare emozioni ragazzi, emozioni, noi siamo qua per risvegliare le farfalle nello stomaco, quella sensazione che si sente qualche volta nella vita e qualche volta purtroppo ce la dimentichiamo, allora io vi prego di accomodarvi a tavola, accomodatevi così vediamo come siamo messi, qualcuno ancora deve arrivare ma arriverà, purtroppo insomma c'è sempre qualcuno che qualche bidone lo fa, speriamo di no, comunque lo dico soprattutto per le donne, qualche uomo di scorta c'è, se per caso vi manca un uomo, vedremo come fare perché voi stiate bene e siate ben ritroscogliato la serata, veramente fantastica. Allora ragazzi, come faremo a sviluppare le farfalle? Noi abbiamo un metodo infallibile, voi non dovete... ragazze andateci piano, ecco il bere, buonasera andateci piano, buonasera, vieni da Milano? Ah va bene, come stire fai? Sì